Si chiama Patto Educativo di Comunità, il documento siglato ieri nel Comune di Pesaro che diventa una sorta di progetto pilota a livello nazionale da sperimentare a partire dalle scuole di Villa San Martino. Un patto siglato dal Comune, dall'Istituto Scolastico Comprensivo e dai due quartieri, Villa San Martino e Tombaccia, che gravitano in prossimità dei due plessi oggetto del patto. L'obiettivo è quello di rendere più sicuri gli accessi le scuole andando in controtendenza alla congestione di vetture tipica di queste dinamiche. Dinamiche che ora diventano di sicurezza stradale e qualità ambientale e che partiranno dalle scuole di Villa San Martino in cui si irragionerà sulla realizzazione delle cosiddette aree kiss and go o di piccole ZTL. L'idea è di cominciare dalle elementari della Don Milani per avviare un progetto che coinvolgerà anche i volontari di CSV e Hauser. Coglie tutta una serie di necessità che si hanno intorno ai plessi dove si accompagnano i figli e si vanno a riprendere a scuola. Abbiamo uno studio a livello europeo che ci dice che la maggior parte del traffico, la maggior parte quindi del particolato e quindi dell'inquinamento dell'aria si concentra proprio in quelle ore ed è anche diciamo nocivo proprio per gli stessi nostri figli. Il progetto perché ha un senso veramente per questo primo patto di comunità che stiamo sperimentando? Perché riprende la progettazione della scuola che è molto diciamo spinta direi piuttosto che orientata verso quello che è il miglioramento dell'ambiente come contesto sociale attraverso i nostri progetti di arte e quant'altro. Quindi nella proposta ricevuta dall'assessore Conti ci siamo ritrovate e quindi la scuola ha aderito da fare scuola pilota e quindi da lì la necessità di definire bene i ruoli di tutti noi per assolvere bene i nostri impegni e anche sperimentare questi pati di comunità di cui tanto si parla ma comunque sono un'innovazione nelle relazioni, nella governance territoriale. Si vuole proprio attenzionare quel luogo sia da un punto di vista della sicurezza stradale ma soprattutto ed è il motivo per cui come assessorato all'ambiente ho deciso di proporlo immediatamente a questa prima scuola che ha abbracciato questo progetto pilota e quello proprio del benessere della popolazione che gravita intorno a questi plessi scolastici. L'obiettivo è anche di renderli vivibili, di fare in modo che siano luoghi cosiddetti kiss and go, così vengono chiamati in Europa, soprattutto dalle due sindache che per prime hanno rivoluzionato due città, la Colau ad Acolau a Madrid e Anne Hidalgo a Parigi. Poi abbiamo qualche piccolo esempio anche in Italia e in qualche città ma potremmo dire che questo è uno dei primi progetti pilota probabilmente in Italia fatto con un parternariato così complesso e così dedicato.